Anas e Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, insieme per la pulizia della Bussentina e della Cilentana. L'obiettivo è rendere il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un'area libera dai rifiuti, dal degrado e dall'inciviltà, consapevole della bellezza che possiede. Giovedì pomeriggio, i vertici dell'Anas, nella figura degli ingegneri Aldo Castellari e Marco Murolo, hanno ricevuto il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Cono e Delia, al quale hanno assicurato all'ente una serie di interventi nell'area a sud della provincia di Salerno per risolvere l'annoso problema delle micro discariche di rifiuti, presenti tutto l'anno lungo le principali arterie di accesso al Cilento e Vallo di Diano, la Bussentina e soprattutto la Cilentana. A breve quindi saranno avviati i lavori per il completamento della messa in sicurezza della strada e il rifacimento della pavimentazione. Intanto, per far fronte all'emergenza, in corso l'affidamento dei lavori di manutenzione da parte di Anas ad un'impresa che dovrà liberare dalla vegetazione e dai rifiuti sia la Cilentana che la Bussentina, ma sarà presto firmata una convenzione tra Anas ed Enteparco per la manutenzione periodica e continuativa delle due strade. La società stradale e il Parco si impegneranno a sostenere i comuni coinvolti e le comunità montane di pertinenza con le società e gli operatori incaricati a liberare le piazzole dai rifiuti, dall'erbacce, mensilmente non solo a luglio. Inoltre si chiederà anche ai carabinieri forestali di lavorare su fototrappole per incastrare chi abbandona i rifiuti ai bordi delle due strade, telecamere nascoste che serviranno a combattere il diffuso fenomeno.